Goyan Parte Niccoli, De Santis, ancora De Santis, miracoloso Morgan De Santis, anche su Bresciano Otto il cross dentro, De Santis, si salva ancora il Napoli Cosa sta succedendo al San Paolo? Parte Gargano con il destro, Bucchio, pallone dentro, Sirigu, salva tutto Nessuno aveva toccato, Sirigu si è ritrovato il pallone lì Attenzione Cavani, Cavani, ancora De Santis, Simplicio, sfiora il gol del vantaggio Prova a puntare l'area di rigore, se ne va Miccoli, attenzione zona tiro, destro, pallone che termina largo